Dolce seme del bambino Gesù! Prenditi un Dragonite! Esatto, un Dragonite! Una verdosa di figaggine! Esatto, stiamo parlando del fottuto vero drago qui! Ora! Sparo i perraggi! Ed ecco sei fottutamente adorabile! E' un figo il suo nuovo miglior compagno tutto in uno! Charizard? Non è un tipo drago! Geridos? Ancora non è un tipo drago! Dratini e Dragonite? Ancora draghi non sviluppati! Salamance? Eh ma sta merda! Siamo oggi! Senti un po', Dragonite è immune ad ogni cazzo di cosa! Vuoi battere un Dragonite? Beh è meglio che usi un altro fottuto Dragonite! L'Hedge usa tre Dragonite perché funzionano cazzo! E perché le gnocche amano Dragonite! Lui si fa sacchiare il cazzo tre volte all'ora! Una per ogni Dragonite! Un tipo ghiaccio? Vaffa il culo! Dragonite è mosso di tipo fuoco! Quindi prenditi il tuo Dragonite e cominci a spaccare i culi! O preparati a farti spaccare il tuo! Cos'hai fattutamente bugioso! La salute che... Se n'è andata... Ah... Mai più robe del genere... Baffa il culo! Baffa...